Abbiamo parlato di strategia, di strategia appunto aziendale, di cultura e di come appunto gli obiettivi all'interno dei sistemi incentivanti possono supportare la diffusione all'interno dell'azienda. Per questo motivo questa chiacchiera la vogliamo fare a tre voci. La vogliamo fare a tre voci perché così abbiamo Clara, appunto come anticipato prima, partner della nostra società di strategia advisor Oliver Wyman, che ci racconterà un pochino quali sono le priorità per le banche nel 2023. Insieme appunto a Luca De Biasi, dove approfondirà un tema già anticipato da Sara poco fa, quindi quali sono gli aspetti a cuore degli investitori, per poi andare ad affondare su appunto quali sono gli obiettivi che nei sistemi incentivanti di breve possono effettivamente supportare questa tipologia di diffusione. Quindi questo racconto a tre voci proprio per andare un pochino in affondo di quella che poi è la complessità del compito che viene fornito ai consiglieri. Adesso io lascerei la parola a Clara. Va bene. Allora, io inizio con un'introduzione su quelli che sono i principali trend nel settore finanziario, le sfide che questi rappresentano per il management e le indicazioni che poi hanno sui schemi degli incentivi che sono poi rilevanti per i membri dei comitati di remunerazione. Allora, l'evoluzione dello scenario macroeconomico che vediamo adesso presenta una serie di sfide per le banche e queste impattano di conseguenza le priorità del management, gli obiettivi e i schemi di incentivi. Per quanto riguarda l'evoluzione dello scenario macroeconomico, stiamo affrontando un contesto molto diverso da quello che abbiamo vissuto negli ultimi 10-15 anni. Siamo in un contesto con inflazione molto elevata e molto probabilmente anche non solo temporanea. È uno contesto con tassi di interesse che sono aumentati e continuano ad aumentare. È un contesto in cui l'economia reale ralenta e diversi paesi sono già in recessione. Il sistema bancario è capitalizzato meglio rispetto alla crisi finanziaria del 2008, però comunque sarà sotto pressione per navigare in questo contesto con molte incertezze e con anche forti aspettative di dare un supporto all'economia reale. In termini di implicazioni poi per le banche e per la loro profittabilità, quello che osserviamo e che ci aspettiamo è che la componente del margine di interesse crescerà. Però allo stesso tempo l'aumento dei tassi di interesse metterà sotto pressione i costi del funding. Ci aspettiamo anche un ralentamento e riduzione della componente delle commissioni che fino all'anno scorso rappresentavano una parte molto rilevante dei ricavi bancari. Questo da un lato per delle perdite sui mercati e il ralentamento delle attività di M&A. Ci aspettiamo anche che il costo del rischio e costo del credito cresca nei prossimi anni come risultato dell'aumento dei tassi di default dovuti da un lato all'aumento dei costi per via di inflazione e per aumento dei costi di finanziamento dovuti all'aumento dei tassi di interesse. Ci aspettiamo anche un aumento dei costi operativi che seguono l'inflazione, ci aspettiamo possibili perdite sui mercati di trading e osserviamo anche crescenti requisiti patrimoniali per un'attenzione sempre maggiore delle autorità di vigilanza sui livelli di rispetto di assets e sul livello di patrimonio e di adozione delle banche. Quindi questo è per il contesto macroeconomico e le principali sfide. Se passiamo alla prossima pagina possiamo vedere come questo si traduce poi sulle priorità del management e l'incentivazione. Allora il primo punto che è rilevante è che con i cambiamenti nel ciclo economico cambia la rilevanza delle diverse componenti del conto economico e della profitabilità. Sul fronte dei ricavi come ho già detto sarà molto più importante la parte del margine di interesse rispetto a commissioni che rappresenta un'inversione del trend che è stato osservato nei ultimi anni. Sarà molto importante la gestione dei costi sia dei costi operativi che del costo del rischio e questo senza rinunciare da un lato alle iniziative di trasformazione che sono molto importanti in questo momento per il settore bancario come investimenti in IT e in digitalizzazione sul fronte del costo del rischio senza rinunciare al compito che le banche hanno in questo periodo di dare comunque liquidità all'economia reale. In parallelo a queste sfide del contesto macroeconomico rimarrà molto impegnativa l'agenda regolamentare con un esercizio di stress test che è partito qualche giorno fa con una serie di nuove normative sui modelli digitali e sull'antiriciclaggio e sanzioni. In aggiunta a questo vediamo un'importanza sempre maggiore delle tematiche ISG da parte degli investitori come vedremo poi anche con Luca nell'intervento successivo. Questo perché nell'anno scorso nel 2022 il settore finanziario è probabilmente rimasto un po' indietro rispetto alle ambizioni che sono state dichiarate nel 2021. Questo perché per ragioni geopolitiche, per ragioni di contesto macroeconomico ci si è focalizzati su priorità diverse. Gestione delle sanzioni, gestione del modello di business, gestione dei costi e del contesto macroeconomico. Dall'altro lato i temi ISG rimangono sempre più importanti per gli investitori e ci si aspetta uno sforzo significativo per recuperare questo ritardo. Per ultimo rimane molto importante anche poi la narrativa per gli investitori nel spiegare come il business bancario funzionerà in questo contesto e come rimarrà reddittivo. Da un lato difendendo il modello tradizionale di banca universale e dall'altro esplorando delle fonti, dei ricavi alternative anche in partnership ad altri player. Quindi in sintesi per quanto riguarda le implicazioni poi sui incentivi, ci aspettiamo un ribilanciamento delle componenti della profittabilità. Maggior peso della componente del margine di interesse, minor peso delle commissioni, maggior peso della gestione dei costi operativi e del costo del rischio. E in questo contesto rimarranno comunque molto importanti gli indicatori rilevanti ai temi di ISG. Direi che possiamo passare al tema ISG e rilevanza dagli investitori. Grazie, buonasera anche da parte mia. Alcuni di voi ho già visto, sono ritrovarli, visto che l'anno scorso abbiamo avuto la stessa discussione. Allora parto con il dire che io rappresento un'area diversa rispetto alla parte career, sono il responsabile dell'area wealth, quindi vi darò una prospettiva che può apparire apparentemente distante. In realtà è connessissima all'argomento di cui stiamo parlando, perché cercherò di portare appunto il punto di vista degli investitori istituzionali e degli asset manager, che poi sono coloro i quali guardano le aziende nel cui bordo voi sedete, al momento sedete. E quindi cerchiamo di capire come mai qualcosa sta succedendo dal punto di vista ISG. Questa slide secondo me è molto importante. Nel grafico che vedete sulla sinistra rappresentiamo un pochettino le risultanze dell'ultimo Global Risk Report che è stato presentato a Davos e il nostro gruppo contribuisce alla stessura di questo Risk Report. Ed è molto importante perché traccia un po' la direzione di quelli che sono i rischi che vengono percepiti dalla business community, quindi dall'azienda e fondamentalmente delle grandi multinazionali. E come vedete, anche perché i colori aiutano, nei primi rischi, i primi tre rischi tutti quanti legati al tema dell'environment, quindi della I nell'acronimo ISG, poi abbiamo invece il quarto e il quinto rischio che sono più legati al tema social, in senso ampio. Questo cosa mi porta a dire? Che se già in passato gli investitori istituzionali guardavano con grandissima attenzione al tema ISG nell'ambito delle aziende in cui andavano a investire, questa tendenza addirittura è aumentata. Faccio un piccolo inciso. L'anno scorso, per quanto riguarda la performance finanziaria, quindi di borsa, dei titoli ISG è stato un anno complicato. Se lo mettiamo in relazione con gli anni passati, sicuramente l'anno scorso è stato molto complicato per le aziende virtuose in ottiche ISG, ma banalmente perché il segmento dell'energy, dell'oil, dei materiali, anche per gli svolti della guerra in Ucraina, ha fatto molto meglio. chi è stato virtuoso o è virtuoso in ottiche ISG, l'anno scorso ha un po' sofferto in termini di borsa. Esco, vi parliamo subito un dubbio. L'anno scorso non ha impatti su quelle che sono le attenzioni degli investitori istituzionali sul tema ISG, nonostante le aziende virtuose in ottiche ISG abbiano sottoperformato il pannello generale degli indici. Anche perché se allunghiamo l'orizzonte temporale, e quindi non ci limitiamo a guardare il 2022 dal punto di vista delle performance di borsa, le aziende ISG o virtuose in ottiche ISG hanno fatto tanto bene quanto il mercato in generale, però chiaramente con una minore rischiosità. E per l'investitore istituzionale un minore rischio reputazionale, perché l'acronimo ISG vuol dire anche che si investe in aziende che sono virtuose, tendenzialmente si evitano alcune trappole, pensiamo al caso Volkswagen di qualche anno fa, che hanno anche risvolti d'immagine per l'investitore istituzionale, per il fondo pensione, per il grande endomance, anche per lo stesso asset manager. Quindi, sgombiamo questo campo, si continua a andare con grande attenzione a guardare la parte ISG quando si vanno a scegliere le aziende. Quali sono i principali topics che gli investitori guardano? Beh, sicuramente la parte climate change. Quindi ci si aspetta che il board dell'azienda, il management, abbiano messo in piedi una agenda dignitosa dal punto di vista del climate change e come vogliono migliorare la loro transizione. Quindi, come vogliono fare, cosa vogliono fare per diventare più virtuose. Sicuramente c'è una grandissima attenzione anche al tema del utilizzo delle risorse naturali e della biodiversità. Anzi, posso anticiparvi che il tema della biodiversità sta diventando centrale su tutti i tavoli dei grandi investitori istituzionali a livello globale. Quindi si vuol vedere come in realtà l'azienda contribuisce a preservare o, dove è possibile, migliorare la biodiversità. E anche qua si cercano dei virtuosi. E quindi, per dare un esempio, aziende che cercano di essere un po' più circolari e quindi consumano meno, sono viste con una certa benevolenza. Trocherò poi il tema della circolarità. Ovviamente si guardano anche le parti più social, quindi come vengono contrattualizzati i fornitori, che tipo di analisi vengono fatte sui fornitori. C'è il cosiddetto modern slavery, quindi insomma la schiavitù moderna dal punto di vista del lavoro. Queste componenti vengono tutte quante guardate. E poi, chiaramente, si torna nel campo che Sara ha già benissimo illustrato della governance vera e propria. La diversity, il pay, la sotturazione di obiettivi coerenti. E quindi questi sono elementi che vengono guardati. E vi dirò di più. Per gli investitori, e io mi siedo in parecchi board, oggi diventa veramente importante investire in aziende i cui board ha capito che deve essere consapevole nell'ambito delle tematiche SG, quindi che si occupa della community, si occupa dell'ambiente, si occupa di far meglio. E' inevitabile, quindi, che questi obiettivi in qualche modo debbano entrare nelle scorecard delle valutazioni dei manager e anche un po' nei loro piani di incentivi. Questa introduzione li porta ad andare poi nella seconda slide e poi toccare a voce alcuni argomenti che non sono coperti da slide, in cui diamo un po' di numeri. E quindi diamo, per esempio, un numero importante. Noi facciamo una survey tutti gli anni che va a toccare, diciamo, in Europa, i più grandi investitori istituzionali, tendenzialmente i fondi pensione e gli endonance. Copriamo circa un trilione di asset, circa 850 investitori. E beh, il 76% di questi investitori che noi copriamo con la survey, ad oggi dice, e ci dice, e lo fa anche con consapevolezza, perché poi ci dettaglia come lo fa, che in ogni scelta di investimento considera l'angolo ISG. E quindi, prima di investire in un'azienda, cerca di capire quanto l'azienda è virtuosa in ottica ISG. Ma facciamo anche un passaggio ulteriore. Chi è che poi investe gli asset di questi grandi investitori istituzionali? Tendenzialmente gli asset manager. E cosa c'è nell'agenda degli asset manager in questo momento? Sia a livello italiano, perché siamo in Italia, ma a livello globale, evidentemente. Poi Sara ha toccato alcuni elementi che arrivano dal più grande asset manager a livello globale, che è BlackRock. Però, diciamo che gli asset manager cercano di avere strategie di investimento che allineano gli investimenti che vanno a fare nelle aziende alla loro traiettoria di, diciamo, decarbonizzazione. E quindi è difficile che aziende che non prendono in considerazione un serio percorso di decarbonizzazione possano progressivamente continuare a essere parte di portafogli di asset manager che devono dimostrare che decarbonizzano. Quindi, per definizione, le aziende più virtuose verranno considerate, anzi, le aziende meno virtuose rischiano di uscire un po' dal campione, quindi dal radar di questi asset manager. La parte, diciamo, di remunerazione e di incentivi, così come la parte della diversity inclusion, è ancora molto importante. E quindi su questo, diciamo che siamo poi i basics, perché poi siamo partiti, se vogliamo dirla un po' bene, no? Si è partiti dalla parte di remunerazione, ma si sta evolvendo verso altre dinamiche in azienda, no? Quindi si va verso la biodiversità, quanto circolare l'azienda, quanto riesce a essere sempre più di impatto nell'ambito della società in cui vive. Poi, chiaramente, abbiamo due mondi diversi, perché, per esempio, il mondo è crescente. In un mondo globale abbiamo l'Europa, che è partita, per certi versi, forse è la prima volta che l'Europa parte prima o è un po' più avanti rispetto agli Stati Uniti. Anche per questioni di regolamentare, in Europa c'è stata una normativa molto stringente, che ha quasi imposto inizialmente agli asset manager e agli investitori istituzionali di occuparsi di SG, più che altro da un punto di vista normativo veniva richiesto di farlo. E in America, invece, abbiamo un percorso diverso. E sono diversi anche gli angoli che vengono guardati. In Europa, per esempio, ad oggi è ancora prevalente la dinamica della lettera E. Cioè, si guarda molto la parte, in generale, degli investimenti environmental, quindi come si inquina meno, qual è la traiettoria di decarbonizzazione. In America, per esempio, invece, è molto più presente e pregnante l'attenzione alla lettera S, quindi della parte social. È un po' culturale, no? Gli americani sono un po' più centrati sulla parte della diversity e anche del pay, del pay for merit e quant'altro. È anche un po', per certi versi, dettata dal fatto che in America, chiaramente, c'è una grandissima e sviluppata industria energetica e si fa un po' fatica, magari, a parlare tanto della E, della E di environment, perché, chiaramente, una buona parte della corpretta americana è legata al settore, diciamo, dell'energy. E questo mi porta a fare alcune considerazioni che forse rappresentano anche un'evoluzione, uno scontro, un po' uno scontro titanico, come possiamo dire. In Europa si va avanti spediti, sempre di più. L'ultima, la sapete, anche ECB mette molta attenzione, questi aspetti, quindi siamo veramente in un mondo che è molto anche normato, cioè c'è la volontà di farlo da parte delle aziende, la volontà di farlo da parte degli investitori, quindi guardare l'ISG, poi c'è anche un cappello, una sola dimensione che riviene dalla normativa, che è molto importante. In America stiamo, invece, assistendo a una battaglia, io lo definisco così, perché, come avevo detto prima, la parte della S, della cronima ESG, è molto più sviluppata rispetto alla parte della E, e per definizione, perché in America ha una grande tradizione di industrie mining e energetiche. Però c'è anche una battaglia in corso che, come avete letto sicuramente, molte università statali e anche molte municipalità, cioè l'America poi è divisa appunto in countries, stanno minacciando di ritirare gli asset, per esempio, questo è controintuitivo, da alcuni asset manager che prendono molto in considerazione di matematica ESG, il caso famoso di BlackRock, in cui, diciamo, lo Stato del Texas dice non investo più con te, semplicemente perché BlackRock, essendo grandi gestori virtuosi di matematica ESG, tende a non investire o penalizzare le società che poi si trovano a essere esportatrici o produttrici di olio. Quindi c'è questa grande battaglia. Detto questo, ci ritroveremo probabilmente l'anno prossimo ancora, e sono sicuro che avremo altri dati. Il percorso che vede gli investitori istituzionali considerare e considerare tanto la dinamica ESG nell'ambito delle proprie scelte di investimento è oramai ineluttabile. La fine e la chiosa è che quindi i board fanno molto bene occuparsi di questo aspetto, perché qua verranno veramente giudicati. E passerei quindi la parola di nuovo a Roberta. Grazie mille Luca, grazie mille Clara. Adesso volevo appunto fare un affondo nel sistema finanziario di quali sono le praxi che abbiamo visto all'interno dei sistemi incentivanti di breve. Noi ci siamo focalizzati appunto su un panel dei servizi finanziari misto, quindi sicuramente abbiamo aziende, le fuzzi Mib italiane, così come anche delle aziende invece che vanno al di là dei nostri confini. Questo appunto per dare una vista un pochino più, di una geografia un pochino più di ampio respiro. Quindi cos'è che abbiamo osservato? Allora, ricordiamoci, facciamo un passo indietro, ricordiamoci che come già anticipato da Luca e da Clara, siamo in un contesto estremamente regolamentato. Un contesto che da anni ragiona sotto la pressione del regolatore, che va a impattare sicuramente le tipologie di banking per sé, ma va andato a impattarsi dal 2010, ma anche qualche anno prima, sulle tematiche di remunerazione. Quindi in questo settore estremamente regolamentato possiamo vedere che le reazioni che ci sono state nei sistemi incentivanti sono principalmente spinte da reazioni prevenienti da input regolatori. All'interno di questo framework, quello che abbiamo osservato è che appunto la performance core card, la struttura stessa della performance core card non è mutata, quindi continuiamo ad avere dei gate come appunto come cancelli di ingresso che sono appunto sulla parte un pochino più standard, quindi il C2N, il liquidity cover ratio, e sono tipiche del business finanziario. Dopodiché si entra direttamente negli obiettivi. Allora, non ci sono particolari variazioni, continuiamo ad avere un bilanciamento molto forte tra obiettivi economico-finanziari, così come appunto invece obiettivi ESG, anche qua ritorniamo alla spinta regolatoria, con quello che abbiamo osservato in realtà con uno spostamento rispetto all'appeso assegnato tra obiettivi di gruppo, divisione, area geografica o individuali che si stanno spostando sempre di più verso obiettivi di gruppo piuttosto che di divisione. Con una leve flessione, rispetto all'anno scorso avevamo come dire un framework di obiettivi individuali che si tarava dal 15% al 40% ed oggi è sceso dal 5 al 30%. Questo perché, lo vedremo dopo, questo deriva dal fatto che sempre di più abbiamo osservato che la strategia aziendale sta assorbendo diverse tematiche. Quindi continuiamo a vedere appunto qua in questo grafico vediamo la prevalenza delle macro aree all'interno dei sistemi incentivanti di breve quindi con la fara padrone il tema della profittabilità ma subito dopo entra la tematica ISG con tutte le diverse accezioni che anche Sara ci ha illustrato. Quindi all'interno del tema dell'ISG a volte viene spacchettato in quelle che possono essere iniziative strategiche dell'azienda piuttosto che appunto di capitale umano. abbiamo inoltre osservato anche in questo contesto molto spinto da un punto di vista della digitalizzazione che anche le metriche afferenti al mondo digital si stanno stanno crescendo in termini di prevalenza. Quindi cos'è che vi volevamo raccontare sotto questo punto di vista? Adesso poi abbiamo fatto un pochino un deep dive su tutta la tematica appunto della digitalizzazione perché il mondo finanziario sta cercando di avere un passo molto più veloce e sta cercando di recuperare rispetto agli anni passati ma oltre al tema della digitalizzazione in sé per sé che quindi si scontra anche qua con una tematica regolamentare che richiede un'osservazione di un periodo di performance che va un pochino al di là di quello che invece è la metodologia standard di misurazione degli obiettivi nelle compagnie principalmente digitali quello che volevamo il punto su cui volevamo soffermarci e farvi soffermare era ma quanti di questi di questi obiettivi tipici del capitale umano rientrano all'interno delle agende del board in quanto spinti dal regolatore e quanti invece rientrano proprio perché fanno parte di una strategia di una cultura aziendale che vanno al di là di quelli che sono i requisiti regolatori quindi è un po' su questo che volevamo lasciarvi per le tematiche afferenti al mondo dei servizi finanziari soffermare che do